e salute bella gente, qua siamo con con Marcel che ha un messaggio molto importante ha un messaggio molto importante per chiunque tu sia questo messaggio diretto all'umanità noi siamo in pericolo in questo momento, perché se tu pensi di non essere in pericolo, ti sbagli moltissimo, perché ci sono solo due liste su questa terra e noi siamo tutti sulla lista nera sulla lista di quelli che andrebbero eliminati e quindi ti riguarda moltissimo questo messaggio, questo video lo devi condividere, perché anche se pensi ma io faccio un lavoro che non mi riguarda tutta questa roba qua io voglio stare tranquillo, eccetera mi godo del mio lavoro, eccetera mettiamo il caso che tu faccia il sindaco per dire ma una volta che lo ha depopolato tutta questa gente, tu che fai il sindaco che devi occuparti delle pecore se queste pecore sono sparite non ci sono più, tu, quale sarà il tuo lavoro, quindi anche tu verrai eliminato, è garantito è matematico e se non capite che questo è un messaggio diretto a tutti qualsiasi sia il tuo lavoro su questa gabbia che chiamiamo terra siete tutti in pericolo e quindi dovete condividere perché ecco qualsiasi sia il tuo lavoro una volta che non ci saranno più tante pecore perché loro nelle Georgia Guidestones ce lo dicono che vogliono abbassare la popolazione e dopo il 2021 ci hanno fatto capire insomma quello che stanno a fare stanno facendo quella roba là diciamo quindi una volta che questa gente intelligente diciamo si sparirà diciamo tu che gestisci la gente che fa il sindaco lì che cazzo gestirai? un bel cazzo anche tu verrai fatto fuori sì la cosa interessante è che non è una cosa come ci poteva pensare all'inizio di questo Fabrizio virus una cosa coercitiva che ti obbligano no no la gente va là a farsi sterminare però questa potrebbe essere secondo me almeno io l'ho visto con me stesso nel senso che io ho voluto fare dei cambiamenti nella mia vita quando ho subito degli shock diciamo e quindi questo che stanno facendo adesso è abbastanza tosto come shock che gli hanno dato alla gente e quindi può darsi che va come vogliono loro però è anche una possibile così shock che potrebbe svegliare la gente a fare l'opposto cioè a vedere cazzo loro qui abbiamo raggiunto il limite diciamo potrebbe molta gente che non guardava nemmeno certi video complottisti diciamo e adesso si avvicina perché vedono qualcosa di strano sì sono comunque secondo me non più del 4-5% ma se ci pensi anche anche le guerre diciamo sono una piccola percentuale che le fa il resto è tutta così background tutta gente così che non conta niente alla fine che non fa niente perché hanno la maggior parte è sempre stato così è un mondo di credenti e quindi se riusciamo a far capire a questa piccola percentuale che tutti sono nella lista e quindi è inutile che stanno lì con i nomi nascosti con le facce nascoste a non commentare a non fare video perché tanto stiamo a qualsiasi livello ti trovi di questa piramide bene o male tutti verrete fatti fuori e quindi se non parlate adesso che c'è la possibilità prima che ci sarà legge marziale ci staccheranno anche internet non si potrà più comunicare questo è l'ultimo istante che abbiamo però dobbiamo togliere questa paura che ci rende così impauriti abbiamo paura a mettere il nome a parlare come stavamo dicendo prima ci sono canali youtube di tutti questi utenti che stanno lì guardano non hanno un video non hanno un cazzo da dire per paura per il terrore di perdere cosa e siamo arrivati ormai ce l'ho stato dicendo che ormai io ho vissuto in Albania in comunismo praticamente tutte quelle cose ci dicono adesso che il cibo sarà razionato staccheranno tutte cose che avevamo in Albania in comunismo e io l'ho vissuto e quindi vi posso garantire che non è bello diciamo ti conosci molto bene e vedi un po' la similitudine immagino di quello che si sta preparando perché non è ancora per il momento sono tutti liberi di donare interamente la propria vita in cambio in cambio della sopravvivenza per poterla donare anche domani e fino alla morte io non la considero vita dare la vita interamente in cambio della sopravvivenza non è vita secondo me qualsiasi altra cosa andava meglio di quello che io ho fatto per anni ho fatto per vent'anni più di vent'anni lo schiavo dello Stato ricordiamo che se tu hai la dita individuale ancora di più ma se sei dipendente non cambia un cazzo perché comunque il dipendente lavora per una dita che dà il 70% allo Stato in cambio di un cazzo nel culo per cui lavori per lo Stato in sostanza una cosa che potrebbe tipo favorire lo staccarsi dal sistema quindi non dover fare quegli lavori stupidi che ci fanno fa molta gente li fa perché noi effettivamente siamo molto isolati uno dall'altro mettiamo il caso che io ho qualche problema per dire noi non ci aiutiamo così più a vicenda come potevamo far prima e quindi uno dice ma se qui mi succede qualcosa nessuno mi aiuta io qua c'è solo questa mammona qua il sistema che mi dà questi soldini e quindi che fanno lavorano per il sistema perché da quest'altra parte non c'è nessuno non c'è un gruppo diciamo che si aiuta a vicenda e cercano di darsi una mano e quindi a quel punto sarebbe anche più facile staccarsi dal sistema se c'hai un gruppo anche se non hai magari da mangiare hai un aiuto spirituale gente che ti sta vicino e quindi ti carica e quindi riesci a staccarti dal sistema però così come ci siamo staccati è difficile anche molti infatti si buttano nel sistema perché è più facile e perché non c'hanno nessuno che potrebbero che li potrebbe aiutare e quindi se uno aspetta che qualcuno l'aiuti sta fritto abbastanza l'unico che può aiutarti e sei tu con la tua muscolo che hai qua dentro quella specie di bicipite chiuso dentro nella testa che non è altro dobbiamo anche capire che da soli completamente è un po' difficile farcelo perché esatto ed è quello che parlavamo stamattina infatti lo ripetiamo perché per esempio tu puoi fare un briefing in dieci parole di dove sei cosa fai soprattutto dove sei perché io di me lo sanno sì prima di tutto mi sono ricordato devo ringraziare il ragazzo che mi ha detto di collegarmi con te che si chiama Yonut Grigoriou grazie lo saluto anche io ottimo consiglio perché mi sono trovato appena ho visto qualche video suo ho visto quando stavi spostando tutta quella legna l'ha messo nel furgone tutto quanto ho visto quel video là è piaciuto subito Gianni la bolletta del gas e quindi più o meno diciamo mi è piaciuto perché più o meno è come se facciamo le stesse cose abbiamo capito insomma che il sistema tutta quella comodità sul mercato eccetera eccetera il lavoro eccetera eccetera l'ufficio possono sembrare belle e comode però in realtà per chi ha uno spirito libero diciamo e ti senti in gabbia è sufficiente pensare eh se pensi appena cominci a pensare ti trovi male in quella specie di gabbia dorata perché è una golden cage come dicono butto giù il governo cosa faccio dopo un altro governo esatto bravo la moneta è una merda cosa faccio un'altra moneta cioè l'idea non c'è non c'è l'idea basta guardare cosa facevano i nostri avi esatto erano più adulti e quindi facciamo più cose da sé piuttosto che farsi servire dallo stato no e quindi quello è il compito se tu puoi far morire questa mamma che è così premurosa che ti vuole sempre non morirà mai stretta non morirà mai poi aiutandoci uno con l'altro la vita anche è più semplice staccarsi secondo me questo è uno dei punti soprattutto per chi è un attimino avanti con questo discorso e che l'ha un attimino capito è inutile andare uno qua e uno là bisogna incontrarci oltre che su questo schermo di merda anche fisicamente soprattutto cioè il fatto che dici ah e ci troviamo con le stesse idee non sono le stesse idee sono le idee che ti vengono se pensi se pensi dici che cazzo devo fare lavorare 10 ore al giorno forse mi avanza un'ora di sera perché perché il Lidl è aperto fino alle 9 di sera perché lo sanno che lavori fino alle 8 lo sanno benissimo e quindi ti danno mezz'oretta per prendere un po' di merda perché quella che prende il supermercato non è latte quella là non è carne quella là non è verdura è una roba che non ha un cazzo di gusto niente il latte cos'è abbiamo fatto nel video del latte vi ho detto non è che devo dirvelo io basta che aprite un cartone di latte lo bevete sembra acqua certo finché bevi solo il cartone io ne ho bevuti 40 anni di cartone di latte e sceglievo anche no questo è meglio questo è peggio sono tutti uguali non cambia un cazzo solo spendi un euro in più per niente quando bevi il latte dalla mucca che quelle volte che sono andato ormai lo so quando fanno la mongitura acqua lo fanno alle 8 di mattina la volta una volta ogni due giorni quindi tante volte sono andato e non era il giorno giusto certe volte sono andato e ho bevuto non dico dalla tetta ma quasi è una cosa che ti sembra di pranzare altro che quell'acqua sporca di bianco che c'è nel cartone quello là non andrebbe chiamato latte ma in questa maniera e tutto il resto la carne adesso io non so chi di voi a me è sempre piaciuta mangiarla cruda anche la carne la carne di qua che è fantastica la mangio certe volte ho preso due chili di macinata e uno l'ho mangiato crudo perché è una cosa allucinante il gusto che ha il gusto di natura cazzo senti all'erba addirittura dentro nel latte e anche nella carne qualche volta d'estate ma provate a mangiare crudo la carne di sul mercato ha gusto di cartone è più buona la confezione in cui è contenuta tante volte volevo buttare via la carne e mangiare mia confezione che era più genuina cioè non è quelli là sono prodotti per farvi venire qualche brutta malattia domani non è che vi viene stasera vi viene con calma al prossimo anno come la puntura il fatto è che la gente non sa la chiama comodità si pronuncia comodità ma si scrive inculata a partire dal supermercato cioè ti leva le capacità skill senza abilità e quindi cosa fai ti fai aiutare ti fai aiutare e lo Stato vado a chiedere il contributo ti metti nella merda da solo perché prima non ti danno il contributo che ti serve ti danno un decimo basta vedere cosa danno di pensione agli handicapati io penso che gente del genere è sempre esistita anche prima che lo Stato fosse così si curasse di noi io penso che quella persona nella comunità poteva che ne so fare le che ne so lavori manuali per dire seduta tranquilla poteva sempre dare il suo contributo però oggi se tu produci qualcosa se non hai la licenza dello Stato e non gli dai le tasse eccetera tu non puoi fare niente cosa fai? chiedi allo Stato e quindi con la scusa che lo Stato deve aiutare questi dementi che non possono più fare niente alla fine lo Stato diventa sempre più forte sempre più forte e loro i bambini cioè i cittadini pensano che ah ma è lo Stato che non mi dai non mi aiuta e quindi è come se chiedono più Stato alla fine invece di invece di capire che hanno una mente porca troia hanno mani e potrebbero fare le cose da sé qualsiasi sia la condizione non siamo morti porca troia possiamo fare sempre qualcosa ma nello Stato in cui siamo adesso lo Stato non ti permette di fare le cose perché non vuole che tu sia adulto e indipendente perché ti vuoi servire porca puttana sbatto un pugno nel tavolo e mi inalta la vera sai cos'è molti molti parlano di fa ridere ma fa anche tristezza questa cosa qua nello stesso momento diciamo molti parlano di massa critica che significa per chi non lo sa si arriva a un certo punto che quegli svegli saranno la maggior parte non esiste questo punto un po' come l'immunità di Greg è solo nei vostri sogni sì quello è proprio una roba è proprio una roba per cretini è stato fatto un lavoro impressionante rendere l'uomo da indipendente qual era fino ad arrivare al 2021 che è andato ad ammazzarsi con i propri piedi è veramente un lavoro non dover usare nessun'arma nessun ingabbiarli non serve non serve guarda la televisione ha avuto un grande ruolo in questa roba perché seppur nella stessa televisione ti dicono ah quando sono tutte cazzate però quando si tratta del telegiornale è tutti eseguono gli ordini quando arriva la buona iuti che sembra tua nonna tutta seria è buona non so neanche chi sia guarda non me ne frega è quella nonnina buona che racconta il tg5 il telegiornale ah la cesera buonamici buonamici capito quella là come fai a non credere a una così non è così buona no sa comunicare bene con emotività la pagora no eh ce ne ce ne sono come sbiro buono sbiro cattivo no c'è cesera buonamici che è buona e poi c'è mentana che è già il nome mentana dice tutto e che è quello cattivo no cattivo perché è contro Berlusconi comunque è una cosa che è proprio ieri che parlavamo ovvio stamattina mi ricordo io prendo delle cose positive anche dal più negativo in assoluto Berlusconi ha detto una volta se tu vuoi essere ricco ovviamente io non parlo del ricco povero parlo del come vuoi essere tu in realtà cosa vuoi dalla tua vita e se tu vuoi essere qualcosa generalizziamo un po' devi già comportarti in quella maniera non puoi aspettare che una forza misteriosa e divina ti faccia diventare devi diventarlo prima è la stessa roba in cui certi dicono ah cambio paese cambio città cambia tutto non cambia un cazzo cambia che hai una lingua in più da imparare una moneta da cambiare delle usi e costume da imparare ma i tuoi problemi rimangono ti seguiranno per sempre prima devi cambiare e poi non puoi più stare dove stai è una cosa automatica se uno si vuole staccare dal sistema in qualche modo ogni tanto vede video di gente complottata come noi diciamo e dice ma io che cazzo posso come mi stacco io no e gli può sembrare però se non ti ci butti per dire io non avrei mai conosciuto Gianni per dire se non fosse stato che mi sono buttato quando ho lasciato il lavoro e tutto e alla fine ho conosciuto un sacco di persone come Gianni che mi sento molto più vicino spiritualmente parlando e mi sento anche più libero di parlare piuttosto che gente fina che conoscevo prima che mi faceva star male diciamo come dicevamo stamattina il primo momento dici orca miseria ma cosa ho fatto adesso non vedo più nessuno poi pensi a chi non vedrai più e ti senti sollevato ti senti sollevato perché ci sarà qualcuno di valido nella vita di prima però per vederne uno devi vederne altri 49 di cui non puoi usarli neanche per pulirti il culo proprio è gente completamente mente inutile che non ha nessuna speranza cercare di svegliare la gente non esiste se uno vuole una cosa è sconvinto che non va bene non la farà non c'è ma tra l'altro non c'è l'alternativa no? perché io mi rendo conto io non avevo molte abilità quando sono venuto qua però le ho imparate le ho imparate sapevo perché ho visto ho guardato ho registrato nella mia vita quello che faceva l'idraulico come lo fa quello che faceva il cemento ho fatto il laghetto adesso pensate che ho fatto il cemento qualche volta ma è stato un cazzo però l'ho visto e mi sono ricordato che il tipo che mischiava il cemento ha detto ah cazzo qua è troppo se non fa non è pronto ed è vero se fa ancora cemento bisogna mettere tipo colla è venuto perfetto il laghetto addirittura l'ho isolato adesso le ocche sono dentro là infatti andrò dopo a vedere se qualche gatto non se le mangiate ma non credo vanno abbastanza d'accordo i gatti sanno che li uccido ma soprattutto puoi imparare il tutto volendo se c'è un po' così pazienza di idraulica non sapevo un cazzo adesso mi faccio l'impianto da solo di idraulica nel laghetto hai buttato il cemento poi dopo ci metti qualcosa di plastica sopra ho messo consigliano di mettere una rete per far aderire meglio il cemento io ho messo dei vecchi pezzi delle lamiere sai quelle tutte ruggini che trovi nelle campagne l'ho messa sotto in maniera che faccia un bel fondo l'ho messa sui lati e dopo ho buttato tutto il cemento ho fatto il coso però sì sono cose che non avrei mai fatto dal cemento all'acqua nient'altro c'è qualcosa di qualche tempo c'è un isolante una guaina liquida si chiama che la pitturi e dopo diventa una specie di gommetta impermeabile proprio è come buttare acqua sull'impermeabile scivola via proprio ah ok per esempio non so tante cose non sapevo un cazzo di niente quando ero a Trieste come tutti come tutti sai fare il tuo lavoro il mio lavoro era portare in giro parchetti nell'ultimo periodo quel furgone mi serviva invece l'elettronica perché ho visto un video questo è molto molto pratico di roba elettronica anche là anche là non sapevo un cazzo sapevo cos'è un interruttore magnetotermico quello del quadro elettrico basta sapevo che il blu è il neutro è il marrone non sapevo niente di 12 volte adesso i pannelli solari se voglio posso avere corrente anche senza il cavo della corrente l'autonomia idroelettrica è la prima cosa acqua e corrente ormai la corrente ci serve ci serve per fare dei lavori ci serve per scaldarci per tutto quello che vuoi e la luce eccetera per quanto io consiglio a parte d'inverno che viene buio alle tre e mezza di andare a dormire quando non c'è più luce non accendere un sole finto vai a dormire così il giorno dopo non ti alzi alle undici e mezza perché c'è già mezza giornata persa ti alzi quando sorge il sole che è perfetto qua quando viene luce neanche il sole quando viene un po' di luce di mattina comincia una sinfonia di uccellini che ti svegliano eh sì ti svegliano io sono svegliato dagli uccellini eh sì prima che fa giorno qua anche adesso abbiamo le rondini qua è bellissimo curiosità il gallo canta il gallo canta sapete perché? perché sente l'aumento della pressione dell'aria non meno degli altri uccellini gli uccellini non è che sono morti di notte o sono spenti per risparmiare corrente sono vivi anche di notte ma non cantano perché il sole non è ancora arrivato in quella zona e non ha ancora alzato la pressione dell'aria come noi noi siamo i galli noi i complottisti appena si alza la pressione non dire sta parola anche quello di prima svegliatevi 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 quindi la luna comanda comanda le azioni batteriche comanda i funghi i funghi vengono fuori con la luna non vengono fuori dopo ogni pioggia vengono fuori dopo la pioggia se c'è la luna giusta se no non vengono fuori come il sole regola il giorno la luna regola tutto il resto delle altre cose che sono invisibili quelle cose di micro micro che cazzo ne so però funziona così pianti la pianta la stessa pianta due semi uguali di pianti uno quella luna uno quella luna sbagliata quella luna sbagliata viene stata striminzita o forse neanche non nasce quell'altra gigante sarà qualcosa no? eh sì dobbiamo rimparare tutte queste cose che abbiamo vivendo in città in cattiveria abbiamo perso tutto piano piano magari all'inizio può sembrare una cosa ma tutte queste cose do imparare vabbè piano piano inizia piano piano e piano piano facendo poi impari è un po' il discorso di quello che lavora 10-15 ore al giorno dice eh ma allora quando faccio queste cose finché lavori non fai devi prendere il coraggio i coglioni tirali fuori e se vuoi veramente qualcosa della vita prendertelo non aspettare che qualcuno te lo dia nessuno ti darà un cazzo a parte qualche fregatura nessuno tra l'altro chi ti dà qualcosa vuole soldi o altre robe in cambio la mia idea di collaborazione non è ti do 5 uova vediamo quante pecore mi dai io ti do le uova e basta e basta è molto semplice mi serve una pecora mi dai una pecora basta non è che devi pensare quante in cambio di quante carote quello che fa carote mi dà le carote quello che fa il legno perché gli piace lavorare il legno mi darà i manici dei cosi ci sarà uno che verrà un giorno e farà ovviamente io lo so che questo qua è tipo un sogno quasi una specie di sogno perché 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 prima manca la gente è una percentuale veramente minima e il fatto è prova ne sia il fatto che siamo qua in due invece che in dieci esatto per fare quello che hai detto te ci vuole anche come dicono in inglese common sense cioè capire che insomma non è che puoi chiedere tanto tutte le regole al tuo amico chiedi quello che così mentalmente sai quanto gli puoi dare quanto quello che ti serve quello che ti serve vedi che non basta l'anno dopo ne fai dieci in più è molto semplice chiaro che non hai tempo neanche non solo di farle neanche di pensarle queste cose perché devi pensare a quello che devi lavorare pagare entro il non dopo però ricordiamoci che questa gente sa che se noi siamo indipendenti loro perdono tutto questo potere che hanno adesso quindi secondo me questa libertà non si raggiungerà senza in qualche modo combattere perché loro faranno di tutto per non farcelo fare questa cosa diciamo a essere indipendenti c'è una nota positiva in questo che se io ho un ovile e su cento pecore scappano due quasi quasi le lascio che vadano capito non gliene frega un cazzo l'importante la prova di questo è le votazioni vi ricordate quando c'era Renzi che sono andate a votare 37% della popolazione cosa mai successe in tutta la storia si sono cagati addosso in Parlamento e hanno cominciato a fare le pubblicità andate a votare vi ricordate ricordate perché questo perché c'è una legge che nessuno la conosce ovviamente se non la vai a cercare non la provi e nessuno te la dirà che stabilisce che se vota meno del 27 28% della popolazione le votazioni non sono valide e non solo il Parlamento deve sciogliersi immediatamente quindi loro gli basta che un terzo della popolazione va a votare non gli serve tanto chiaro oggi sono l'80% quindi va super bene nessuno ci rincorrerà anche perché non esiste un controllo personale esiste un controllo sul gregge normalmente quello che ti controlla non è lo sbirro non ti viene a casa lo sbirro c'è il tuo vicino il tuo vicino è il primo sbirro perché per inezia per inettitudine lui non non ha coraggio di fare quello che fai tu e allora cosa fa cerca di riportarti al suo livello cioè nullità assoluta per questo vicino è meglio non averne tranne di stessa frequenza come si dice per il stesso tipo di vibrazione io non ho mai misurato questa vibrazione ma diciamola così così si capisce di che cazzo si parla il segreto per arrivare al punto poi ripartiamo da qualche altra parte se tu che stai guardando sto cazzo di video adesso faccio anch'io il primo piano come lui prima se tu che stai guardando sto video hai un'idea di fare qualcosa della tua vita che non sia donarla a sconosciuti in cambio di foglietti colorati che spendi prima di averne altri perché non mi direte che siete ricchi grazie al lavoro un cazzo non avete ci sono le finanziarie apposta per farsi stare in vita lo stesso per poter lavorare anche domani se vuoi che tu che guardi hai intenzione di fare qualcosa chiamaci fallo devi farlo perché il segreto non è andare tutti quanti nel proprio monte o sul proprio posto che hanno trovato da soli quando muori a chi lasci quella roba bisogna fare un gruppo uniti fisicamente no su telegram o su shi tube fisicamente trovarsi e dopo fare qualcosa insieme soprattutto chi ha idee comuni perché sennò non si va da nessuna parte ci vuole un nuovo mondo lo chiamo io perché non è che lasci tutto lascio tutto cosa cosa lasci le tasse cosa lasci il vicino che ti infama cos'è mollo tutto molli cosa la tua condizione di coglione sì forse è meglio che la molli l'occasione sapete qual è quando perdi il lavoro quando perdi il lavoro hai l'occasione di pensare se vuoi donare la tua vita con un altro qualsiasi lavoro che ti consenta di pagare l'appartamento che non ti mandino via oppure se vuoi veramente qualcosa in più io non sono soddisfatto della vita che ti propongono quella società cravatta e tutti a votare in chiesa a pregare no non sono d'accordo si può avere molto di più mi è stato detto stamattina da un mio amico caro amico ormai per tanto tempo ci sentiamo mi sono affezionato e penso anche lui a me anche se abbiamo credenze diametralmente opposte cioè lui crede e io no io ce l'ho scritto sul shitbook do not believe non credere è la prima cosa la seconda è ricerca tu stesso perché ricordo che le Iene o striscia la notizia non mi ricordo dove è andata a sto servizio hanno detto ah il terapiatista e sono già la seconda volta che lo dico mi sento già più stupido di prima e loro credono a un video allora innanzitutto io i video non li guardo li faccio primo secondo come fai a fare un video devi aver pensato o copri il video di un altro come patinelli ma è una cosa veramente ignobile che è da calci in culo e soprattutto perché all'inizio non citava neanche la fonte sto cozzone oppure pensi se pensi non stai più bene dove sei e devi fare qualcosa uniamoci fisicamente io ho un posto dove potete venire con la tenda tutti quanti a questo punto invito in una live ho anche regalato 50 euro in bitcoin che ce l'avevo se qualcuno partecipava alla live pensi che è venuto qualcuno a rispondere nessuno si vede che non hanno credito non sa come gestirlo non sanno come no la gente non ha i coglioni non ha i coglioni sono stati privati dei coglioni non hanno i coglioni di dire quello che pensano figurati di fare qualcosa ma fare è proprio fuori dalla grazia di Dio come ti dice fuori fuori obiettivo e comunque il gruppo e comunque il gruppo potrebbe anche essere non per forza che ne so con noi per dire potrebbe essere un gruppo con gli stessi ideali però con altra gente che conosci che ti fidi diciamo cerca questo è il consiglio così creiamo tanti gruppi e magari quando un domani questi stronzi ci verranno a trovare per romperci il cazzo noi sappiamo che c'è questo gruppo qua che è della nostra stessa frequenza diciamo che è in difficoltà perché lo stanno attaccando andiamo a dargli una mano per dire però possiamo sempre essere separati ognuno in altre parti della terra però ecco tenerci così in contatto e aiutarci a vicenda quando c'è bisogno diciamo che c'è bisogno che c'è bisogno di essere che c'è bisogno